Leonardo Silva Revisore Questa toilette, dall'aspetto così futuristico, ha una seduta riscaldata, un sistema di autopulizia, emette una fragranza a ogni utilizzo, una melodia, addirittura un jet all'interno tipo bidet, tutto controllato da un app sullo smartphone. Fantastico, no? Ci sono addirittura idee per renderla ancora più utile con le prossime versioni. Magari aggiungere un controllo, un'analisi delle urine all'interno, potrà quindi dirvi se avete un'infezione in corso, potrà calcolare il vostro tasso alcolemico, magari proporvi la ricetta di un beverone dopo sbornia sull'iPhone per la mattina dopo. Potrà addirittura dire se siete incinta, suonare la cavalcata delle Valkyrie, potrà registrare gli ormoni della gravidanza. Addirittura nella versione attuale c'è nell'app un calendario, quindi potete registrare la vostra regolarità intestinale. Mi stupisce che non abbiano messo una bilancia all'interno, così potete sfidare magari gli amici su Facebook a ogni utilizzo. Io non so quanti di voi correranno a comprare subito questa toilette, di sicuro tutte le donne in sala che convivono con un uomo, perché c'è anche una funzione utilissima e quando ci si allontana abbassa automaticamente la tavoletta. Benvenuti nell'Internet of Things, che riesce a mettere fine anche alle eterne liti coniugali. Ma cos'è questo Internet of Things, l'Internet delle cose? L'Internet delle cose è la connettività di ogni oggetto, in ogni momento e in ogni luogo. 50 miliardi di dispositivi saranno connessi a Internet entro i prossimi 5 anni. Dove sono tutti questi dispositivi? Nelle nostre case, magari intorno a noi o addosso a noi, addirittura magari dentro di noi. Ci sono dei sensori che misurano i livelli di pressione e di ossigeno all'interno del corpo. Questi vengono ingeriti e poi vengono assorbiti dall'organismo, quindi comunicano i dati all'esterno con i medici, dati diagnostici. Ci sono addirittura dei fibrillatori che comunicano i dati con i medici all'esterno. Oppure pensate ai sistemi che controllano le infrastrutture critiche di intere nazioni, centrali elettriche, cartelli stradali intelligenti connessi tra loro, semafori intelligenti. Oppure anche nelle automobili. Le case automobilistiche sono sempre più attenti a queste cose, inseriscono la connettività all'interno di tutte le automobili ormai. Ci sono sistemi di diagnostica, dei pneumatici, del tachimetro, controlli della velocità, controlli dello sterzo, controlli dei freni. Ci sono addirittura case che aggiornano la centralina da distanza via internet. Magari la casa madre in Germania sta aggiornando le auto vendute negli Stati Uniti, di notte mentre sono nel garage. Ci sono poi applicazioni sul telefono che vi fanno vedere come state guidando, i vostri consumi, il vostro stile di guida. Oppure avviciniamoci un po' a qualcosa che è nelle nostre case. Per esempio, quanti di voi hanno una Smart TV? Una televisione che permette di vedere un video su internet o ascoltare una canzone su YouTube. Oppure una netcam. Sono sempre più diffuse le netcam. Vi permettono di vedere sul cellulare cosa avviene nella stanza del vostro bambino al piano di sopra. Oppure guardare cosa fa il vostro cane mentre siete in ufficio. Vederlo che mangia al divano scodinzolando e noi siamo in uffici impotenti. Non pensate che questi oggetti siano così lontani dalla realtà perché alla fine quando voi cambierete la televisione o la lavatrice è facile che questa sia connessa a internet perché ormai tutti i nuovi dispositivi hanno questo tipo di funzioni. Sempre in alcune case ci sono per esempio termostat intelligenti connessi a internet. Questi termostat sanno tramite il cellulare dove ci troviamo, se stiamo andando verso l'ufficio, se stiamo tornando a casa, in quale stanza siamo. Cambiano la temperatura delle stanze di conseguenza. Oppure le bilance che mandano i dati di fitness sui nostri profili online. Sono addirittura dei giovani italiani che hanno inventato il materasso intelligente. Un coprimaterasso in realtà che impara come dormiamo. Le nostre abitudini sa quando deve scaldare quale parte di letto a che ora addirittura. Questi dispositivi misurano anche come dormiamo. Ci possono anche dire se stiamo russando, per esempio. Ah, è russato questa notte. Non è vero. Lo dice il materasso. Ok, va bene. Il pericolo è che ci dica anche con chi abbiamo dormito. Vi vedo tante facce preoccupate qua davanti. Alla fine, io però non vi ho detto ancora chi sono io. Mi chiamo Stefano. Sono almeno dieci giorni che non compro un nuovo dispositivo elettronico di questo tipo. Sono dipendente dalla tecnologia. Tendo a riempirmi di questi oggetti. Però nel mio lavoro mi occupo di sicurezza e di insicurezza, cioè di hacking. Tendo a circondarmi di questi oggetti, come dicevo, ma quindi la mia paranoica deformazione professionale mi porta a chiedere ma se tutti questi oggetti non fossero veramente così sicuri come vorremmo credere. Quale sarebbe probabilmente la vostra risposta a questa domanda? Beh, non è il mio problema. L'importante è che la televisione riesca a collegarsi a internet, a mostrare Peppa Pig a mio figlio, a tenerlo buono mentre lo scarico da YouTube. Beh, in realtà questa domanda se la sono posta tanti ricercatori, tanti esperti di sicurezza informatica, la comunità hacking underground. Sono tutti molto attenti a questo settore perché è un campo con il quale è bello misurarsi. In più, l'hacking di questi oggetti finisce sulle prime pagine dei giornali, dei quotidiani, che sono oggetti che tanti di noi hanno in casa. Pensate che gli ultimi attacchi informatici sono stati eseguiti da reti di frigoriferi, lavatrici, televisori, termostati. Reti di attacchi informatici, tutti con il benestare inconsapevole dei loro proprietari, che magari non hanno neanche cambiato la password predefinita dell'elettrodomestico. Pensate magari, adesso voi siete qua a ascoltare Ted, da casa la vostra lavatrice sta attaccando il sito del New York Times. Beh, in realtà questo ancora non è il mio problema. Magari interessa le aziende, ma ancora non mi tocca direttamente. Allora, parliamo di oggetti di uso quotidiano che sono nelle nostre case. Per esempio, questi oggetti hanno le nostre informazioni personali, un termostato conosce, come dicevo prima, in che stanza siamo, magari dove siamo col cellulare. La bilancia conosce quanto pesiamo, conosce anche quanti bicchieri d'acqua abbiamo bevuto magari. O lo smartphone conosce il percorso abituale della nostra corsetta di fitness serale, sa esattamente che percorso facciamo. Oppure le netcam e le televisioni sono una vetrina di quello che avviene in salotto o nella stanza di sopra. Quindi questi dati sono molto importanti, se vanno a finire nelle mani sbagliate potrebbe diventare pericoloso. Beh, questo inizia un po' a far vacillare la nostra risposta iniziale. Beh, se vi dicessi che è possibile modificare cartelli come questo, a distanza, o semafori intelligenti. Oppure pensate a una notizia di un paio di mesi fa, dove BMW e Mini hanno dovuto aggiornare sempre via internet, remotamente, le loro automobili, perché tramite un app sullo smartphone era possibile aprire le portiere, per esempio. Sono addirittura ricercatori dell'Università di Washington e di San Diego che sono riusciti a controllare a distanza delle automobili con i sistemi di controllo delle automobili, quindi a mostrare una velocità diversa sul tachimetro, oppure a gestire i freni dell'automobilo, le luci, quindi con un rischio conseguente per chi si mette alla guida. Beh, questo non è il mio problema iniziale, non regge più tanto. Beh, allora vi ricordate il cardiostimolatore di cui ho parlato all'inizio? Beh, ci sono altri ricercatori che sono riusciti a collegarsi a questo cardiostimolatore, quindi a distanza cambiare i parametri, addirittura indurre la defibrillazione. Non in un paziente vero, per fortuna. Era una prova. Di fronte a questo il mio non è il mio problema, non regge proprio più. Tornando alla nostra immagine iniziale, quella della toilette, il sistema di controllo di sicurezza del Bluetooth di questa toilette è impostata come 0000. Capite che è molto facile collegarsi quindi a queste toilette e fare degli scherzi che le sta utilizzando. Magari facciamo partire il getto del bidet, facciamo partire l'aria calda, apriamo e chiudiamo il coperchio, quindi l'hacking può anche essere molto divertente in alcuni casi. Beh, a questo punto, dopo che avete visto queste cose, se io chiedessi la stessa domanda iniziale, ma se tutti questi oggetti non fossero veramente così sicuri come vorremmo credere. Come sarebbe diventata ora la vostra risposta? Io spero che adesso la risposta sia sì, è il mio problema, devo fare qualcosa. È giusto che ci circondiamo quotidianamente di oggetti di questo tipo, di nuove tecnologie, senza però perdere di vista i nuovi rischi ai quali ci esponiamo e la centralità che abbiamo noi nel proteggerci da questi rischi, prima e dopo l'acquisto, nella scelta del prodotto e nell'utilizzo del prodotto. Quindi cosa possiamo fare noi concretamente, da parte nostra, per proteggersi da queste cose? Beh, in primo luogo, quanti di voi leggono i manuali? Nessuno legge più i manuali. Ormai i prodotti sono intuitivi, facili da usare, siamo presi dall'entusiasmo del nuovo acquisto, non vogliamo leggere il manuale. Eppure leggendo il manuale capiamo esattamente quali sono le funzioni di quel prodotto, perché dobbiamo sapere che cosa offre, in primo luogo per capire che cosa fa, ma in secondo luogo per spegnere tutto ciò che non ci serve. È inutile lasciare porte aperte dal quale poi gli hacker possono intrufolarsi. Per esempio, è inutile tenere acceso il comando vocale della vostra televisione in salotto, che di fatto attiva un microfono nel vostro salotto, se sapete già che userete sempre il telecomando. È importante poi dare solo le informazioni private necessarie in questi prodotti, perché possono essere sempre attaccati e visti da qualcuno. Per esempio, un termostato che deve collegarsi al meteo per cambiare la temperatura di casa non deve sapere per forza la vostra via e il numero civico dell'abitazione. È importante sapere la città o il capo. È poi importante anche tenere aggiornati questi prodotti, perché se vengono solo installati, mai più toccati, le vecchie versioni sono soggette a errori di programmazione, sono soggette a attacchi che gli hacker possono utilizzare. Quindi vanno tenuti costantemente aggiornati. E infine, un'accortezza tanto facile quanto importante. Cambiare la password dai propri dispositivi. O almeno inserirne una laddove prima non c'era, come un cellulare, per esempio. Magari utilizziamo anche una password complessa. Non utilizziamo 123456, che tra l'altro ha già vinto il premio nel 2014, come password più utilizzata. Adesso la sanno tutti, tra l'altro, adesso. Quindi quello che io vorrei ottenere oggi è che voi, di fronte al prossimo nuovo acquisto tecnologico, vi chiediate come faccio a fargli fare tutto quello che voglio e subito dopo vi chiediate come faccio a non fargli fare tutto quello che non voglio. Grazie. 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 Grazie.